Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi ha lasciata davvero senza parole. In questo video vi parlerò di una donna davvero tremenda di nome Audrey Marie Frazier. Ma perché la definisco in questo modo? Beh, dobbiamo andare con ordine. Audrey Marie nasce il 4 giugno del 1933 a Blue Mountain in Alabama da Way Frazier e Lucille Mead Frazier. Le madri all'epoca rimanevano a casa per allevare la prole, ma Lucille non poteva permetterselo, quindi era tornata immediatamente a lavorare, lasciando la figlia neonata alle cure dei parenti. Forse i genitori della bambina si sentivano in colpa perché non erano molto presenti o forse semplicemente erano incantati dalla loro bellissima figlia, perché nonostante la loro magra esistenza la vestivano con abiti raffinati e non la punivano mai. Marie, così veniva chiamata dai suoi genitori, faceva i capricci in continuazione se non poteva ottenere ciò che voleva o fare ciò che voleva. Ecco perché era poco amata dai suoi cugini e dai suoi zii. Passano gli anni, Marie cresce e i suoi genitori sognano per lei un futuro fantastico, vogliono vederla diplomarsi al liceo per ottenere un buon lavoro come segretaria. Tutto ciò però non può succedere a Blue Mountain, quindi la famiglia si sposta di poche miglia stabilendosi a Deniston, una città che offre un'ottima scuola superiore e più opportunità lavorative. Marie era vista a Blue Mountain come una delle bambine più privilegiate, ma a Deniston la cosa cambia, infatti Marie si ritrova circondata da ragazzi ricchi che abitano in grandi case lussuose, cosa che la sua famiglia non può assolutamente permettersi. È segretamente invidiosa della vita dei suoi amici, ma non lo fa mai notare, al contrario inizia a frequentarli e riesce a stringere amicizia con molti compagni di classe. L'attenzione che Marie riceve dai compagni non dipende troppo dai suoi risultati accademici. I ragazzi la vedono come una bella signorina che veste abiti ben stirati, ma Marie ha occhi solo per un ragazzo, il suo nome è Frank Hilley. Frank Hilley proviene da una famiglia operaia che comprende i suoi genitori e due fratelli. Non hanno molte cose materiali, ma nella sua famiglia non mancano unione e tanto amore. Frank incontra per la prima volta Marie quando ha appena 12 anni, mentre lui ne ha 16. La ragazza è molto matura per la sua età e quando Frank si diploma al liceo sa per certo che Marie è l'unica ragazza che vorrebbe a suo fianco. I genitori di Marie però non sono molto entusiasti del fidanzato della figlia, anche se assicondano i desideri della ragazza perché si rendono conto che Frank tratta Marie come una regina, esattamente come hanno fatto loro per anni. Diciamo che per la famiglia di Marie è molto più facile affrontare la loro storia d'amore quando Frank entra nella Marina degli Stati Uniti. Il tempo però passa e arriva maggio del 1951. Mentre Frank è a casa e licenza, lui e Marie si sposano pochi giorni prima del diciottesimo compleanno della giovane. Dopo la fine del mandato di Frank in Marina, lui e Marie tornano a Deniston e acquistano una casa. Frank inizia a lavorare alla Standard Foundry, ossia una fonderia, mentre Marie trova lavoro come segretaria. Nel 1952 Marie mette al mondo un figlio di nome Michael e nel 1960, ovvero otto anni dopo, mette al mondo sua figlia Carol e quando nasce Carol il matrimonio tra Michael e Marie è decisamente in crisi. Nonostante il suo lavoro ben retribuito alla Standard Foundry e l'impiego di segretaria di Marie hanno pochi risparmi. Eppure Frank è sempre stato modesto con le finanze, si è sempre assicurato che le bollette fossero pagate in tempo e non era un tipo così materialista. Non aveva idea che Marie, di nascosto, avesse fatto acquisti fogli ai grandi magazzini. Quando lo viene a sapere, ovviamente discute con sua moglie. Ma a Marie dei discorsi di Frank non gliene importa nulla. Continua ugualmente a spendere. Quello che Frank non sa è che Marie spende più di quanto guadagnano entrambi. Quindi, da dove vengono questi soldi? Come se li procura Marie? Intanto i figli di Marie crescono. Michael va via di casa, inizia a lavorare come ministro ordinato ad Atlanta in Georgia, mentre Carol, di otto anni più giovane, frequenta il liceo ed è un'enorme delusione per sua madre. Marie avrebbe voluto vestire Carol come una principessa e invece Carol, dei vestitini, delle cose carine e dei gioiellini, se ne frega altamente. Le piacciono i vestiti larghi e comodi, ama giocare a calcio e per Marie questa cosa non è assolutamente normale. In colpa, quindi, la relazione stretta che c'è tra Carol e suo padre. Poi scopre chi è Carol, piaciucchiano le ragazze e a questo punto si infuria da morire. Frank ovviamente continua ad essere un impiegato affidabile, almeno fino al 1974, quando la sua salute inizia a peggiorare inspiegabilmente. Per la precisione siamo in estate, quando Frank inizia a prendere la febbre più volte. La cosa è strana, perché di solito in estate le persone non si ammalano prendendo la febbre, tanto meno Frank che ha sempre goduto di ottima salute. Fatto sta che questa febbre che appare e scompare a intermittenza non accenna a passare fino a quando arriva l'autunno e si aggiungono altri sintomi preoccupanti. Frank inizia ad avere crampi allo stomaco, nausea, vomita spesso, soffre di disenteria grave, sude in modo incontrollato, ha brividi e spesso è disorientato. Nonostante ciò continua ad andare a lavoro, perché non può permettersi di rimanere a casa, anche perché hanno parecchi debiti a causa delle spese folle di Marie. Un giorno Frank sta peggio del solito, quindi è obbligato a tornare a casa presto. Trova così sua moglie a letto con il suo capo. È a questo punto che Frank capisce da dove Marie riesce a recuperare quei soldi extra che spende ogni mese con avidità. Va a letto con il suo capo che in cambio le dà dei soldi in più. Frank è ferito e disgustato, ma a causa della sua salute cagionevole sente di non poter fare molto per l'infedeltà di sua moglie. Michael, che come già vi ho detto è un ministro ordinato, lavora in una chiesa e sente spesso suo padre. Quando viene a sapere di questa spiacevole situazione, cerca di aiutarlo perché sente che suo padre non vuole lasciare sua madre. Ma allo stesso tempo, in quel momento, neanche riesce a guardarla in faccia. Purtroppo Frank non dice mai a Michael, suo figlio, di essere malato e di come le cose stiano peggiorando rapidamente. Infatti Frank continua a star male sino alla primavera del 1975 quando, una sera, Marie lo trova a vagare nel cortile senza meta alla ricerca di un'auto. Sembra che neanche lo riconosca. Marie, a questo punto, finalmente lo fa ricoverare in ospedale. Quando l'uomo arriva in ospedale, i medici lo visitano e si convincono che Frank soffra di epatite infettiva, quindi lo curano per quella malattia. Però la sua salute non migliora affatto. Anzi, inizia a soffrire di allucinazioni, arrivando a non riconoscere neanche sua sorella. L'ultima frase che Frank pronuncia è «Credo che non vivrò ancora a lungo». E in effetti la sua premonizione si avvera quando domenica 25 maggio 1975 viene a mancare. Michael, suo figlio, chiaramente è tornato in città per assisterlo ed è lui che celebra il funerale, dato che è un pastore. Intanto Michael si è sposato con una ragazza di nome Terry e decide di rimanere a casa con sua madre e sua sorella Carol, trovando lavoro in una chiesa vicina. Marie si comporta da vedova addolorata, ma, a dirla tutta, la madre di Frank, Carrie, e sua sorella Frida sono un po' preoccupate. La morte di Frank le ha spiazzate. Frank, a differenza di Marie, come già vi ho detto, era sempre stato modesto con le finanze. Si era dunque assicurato che in caso di morte Marie avrebbe ottenuto 30.000 dollari per la pollizza sulla vita. Oggi sarebbero circa 150.000 dollari. In pratica voleva assicurarsi, nonostante tutto, che Marie stesse tranquilla e riuscisse a cavarsela. Inutile dirvi che questi soldi Marie se li brucia davvero in pochissimo tempo. Compra una nuova macchina, tantissimi vestiti e gioielli costosi. Regala a suo figlio Michael e a sua moglie Terry dei vestiti e degli elettrodomestici. Questi gesti, a dirla tutta, li lasciano più imbarazzati che grati. Anche Carol, che non ha mai avuto un buon rapporto con sua madre, viene ricoperta di regali. Marie le compra una macchina, una bicicletta, uno stereo e dei mobili nuovi per la sua camera da letto. Infine, ciliegina sulla torta, Marie acquista, per sua madre Lucille, che vive con loro da quando è morto suo marito, un anello di diamanti. Quindi, in questo momento, Marie vive con i suoi due figli, Carol e Michael, con la moglie di Michael, Terry, e con sua madre Lucille. Esattamente il giorno dopo la morte di Frank, anche Terry inizia a stare male. Ha un po' di nausea e perde l'appetito, ma è incinta, quindi attribuisce questi disturbi alle sue prime fasi della gravidanza. Però anche Terry inizia a stare sempre più male, giorno dopo giorno. Ben presto inizia a soffrire di crampi allo stomaco, vomita tutto quello che mangia e ha dolori alle gambe. Di conseguenza, va in ospedale. Il medico che la visita teme che abbia contratto l'epatite da Frank, quindi vuole farle un'iniezione di gamma globuline, che sono essenzialmente delle molecole a servizio del sistema immunitario. Si tratta di proteine in grado di neutralizzare gli agenti patogeni, come batteri e virus. Terry però sa che deve avvisare la sua ostetrica di East Point in Georgia. Così Marie si offre volontaria per fare la chiamata al posto suo, poi torna per dire che l'ostetrica ha approvato l'iniezione. Così il medico effettua l'iniezione a Terry che si sente meglio. Viene quindi dimessa dall'ospedale e si mette subito in viaggio per andare dalla sua ostetrica a East Point, col fine di effettuare un esame di routine e per dirgli a voce che in effetti le è stata fatta un'iniezione. La dottoressa quando incontra Terry sente ciò che ha da dirle e rimane inorridita. Esclama che lei al telefono in realtà aveva detto a Marie di dire ai medici di non effettuare alcuna iniezione. Terry pensa che ci sia stato un malinteso d'altronde Marie, è così addolorata per la morte di Frank. Pochi giorni dopo Terry torna a casa di Marie e puntualmente si riammala di nuovo. Purtroppo questa volta Terry ha un'emorragia e una volta in ospedale le comunicano che ha subito un amore spontaneo. Terry ovviamente è distrutta e decide di rimanere a casa di Marie per poter ricevere un po' di conforto. Riesce a riprendersi a stare meglio per tre giorni, poi rincomincia ad avere un'intensa nausea che peggiora sempre di più e la porta ad avere difficoltà respiratorie. In poche ore inizia di nuovo a vomitare, ha di nuovo gravi dolori all'addome che continuano per tutta la notte. Quindi la mattina dopo torna in ospedale. Terry è così debole e disidratata che devono sottoporla ad alimentazione endovenosa. In tutto Terry viene ricoverata in ospedale quattro volte diverse mentre vive con Marie. Durante l'estate e l'autunno del 1975 e nell'inverno tra il 1975 e il 1976. Meno di un anno dopo la morte di Frank iniziano a verificarsi degli incendi inspiegabili. Il primo avviene proprio la notte prima in cui Michael e Terry avrebbero dovuto lasciare la casa di Marie e trasferirsi nel loro nuovo appartamento. Un vicino di casa infatti nota del fumo denso proveniente dalla residenza di Marie. Quindi chiama i vigili del fuoco. Michael e Terry sono in chiesa in quanto l'uomo sta predicando una funzione domenicale serale mentre Carol è fuori con degli amici. I vicini sono preoccupati che la madre di Marie Lucille molto spesso costretta a letto sia intrappolata in casa. Mentre i vigili del fuoco si preparano a correre in casa per cercare Lucille, Marie torna a casa proprio con sua madre affermando che sono appena tornate a casa dopo aver fatto una passeggiata. Il fuoco in sé non fa quasi nessun danno ma il fumo così denso invece sì. Il danno fa sì che Marie, Carol e Lucille non possano rimanere lì costringendo il trio a trasferirsi con Michael e Terry nel loro nuovo appartamento. L'origine dell'incendio non viene determinata mentre Marie attribuisce la colpa all'unità del riscaldamento e condizionamento installata dalla compagnia del gas quindi intenta una causa contro di loro che però alla fine viene respinta. Le riparazioni in casa di Marie richiedono quasi un mese e mentre Marie, Carol e Lucille si preparano per tornare a casa loro scoppia un altro incendio nell'appartamento accanto a quello di Michael e Terry. Sebbene le fiamme non raggiungano l'appartamento di Michael e Terry il fumo che si è infiltrato nell'intero edificio durante l'incendio causa dei danni al loro appartamento così Michael e Terry si vedono costretti a tornare di nuovo a casa di Marie finché non trovano un altro appartamento vicino alla chiesa in cui lavora Michael. Anche l'origine di questo ennesimo incendio esattamente come quello del mese precedente non viene determinata. Nel marzo del 1976 Marie denuncia un furto con scasso in cui le sono stati rubati gioielli un asciugacapelli e due pistole. Due giorni dopo torna a casa verso il tramonto notando da fuori casa che la luce della cucina viene in continuazione accesa e spenta. contatta la polizia che al suo arrivo non trova nessuno in casa. Poche settimane dopo Marie contatta nuovamente la polizia dicendo che riceve telefonate fastidiose e minacciose. Poco tempo dopo Marie chiama il dipartimento di polizia di Aniston per lamentarsi di alcune perdite di gas che secondo il suo parere sono presenti da settimane. Inutile dirvi che non vi è alcuna perdita di gas almeno la gente che va a controllare non riscontra alcun problema. Un mese dopo poco prima delle 4 del mattino scoppia un incendio nell'armadio dell'ingresso di Marie che fortunatamente si spegne da solo. La polizia giunta sul posto non trova segni di effrazione. Due giorni dopo la vicina di Marie Doris Ford torna a casa e scopre che c'è stato un incendio nell'armadio del suo ingresso anche in questo caso si è spento da solo. Esattamente come a casa di Marie non c'è nessun segno di effrazione e non manca nulla. All'inizio del gennaio del 1977 la madre di Marie Lucille muore a causa del cancro. Così Marie alla velocità della luce vende la casa di Lucille e si intasca il ricavato della vendita. Le chiamate di Marie al dipartimento di polizia continuano anche dopo la morte di sua madre. I suoi rapporti riguardano principalmente telefonate fastidiose in cui qualcuno cerca di spaventarla. Appena la polizia chiede alla compagnia telefonica di tracciare la linea i vasi di fiori a casa di Marie vengono tutti quanti rovesciati e inoltre inizia addirittura a sparire del cibo dalla dispensa. Però le telefonate fastidiose cessano. È vero le telefonate fastidiose che riceve Marie cessano ma ora è la sua vicina Doris Ford a riceverle per l'esattezza in un mese ne riceve ben 32 quindi quasi una al giorno. La polizia chiede allo stesso modo di tracciare anche la sua linea telefonica scoprendo che una chiamata che Doris ha ricevuto proviene dalla compagnia per cui Marie lavora. Marie ovviamente nega con tutta se stessa di sapere qualcosa sulla strana telefonata e di nuovo continua a segnalare chiamate fastidiose che torna a ricevere. Poi oltre alle telefonate fastidiose Marie inizia a dire di essere seguita da una strana macchina ed è uno strano uomo. Una mattina trova il parabrezza della sua macchina rotto e anche l'auto di Carol viene rubata. Carol successivamente confida a suo fratello Michael che sua madre aveva guidato la sua automobile fino ad una parte remota della città. Aveva infilato uno straccio nel serbatoio del gas e l'aveva bruciata per ottenere i soldi dell'assicurazione. Nell'estate del 1978 Marie perde il lavoro principalmente perché ormai non va più d'accordo con i suoi colleghi. Arriviamo alla fine del 1978 quando Marie vende la sua casa in Alabama e lei e Carol si trasferiscono in Florida per stare vicine a Michael e Terry. Quest'ultima ha messo al mondo un altro figlio e Marie è sua nonna ma è molto distante da sua nipote e trascorre la maggior parte del suo tempo in camera da letto a leggere libri su misteri e sparizioni. Terry diversi anni prima ha lasciato l'Alabama e da allora è sempre stata in salute non ha più avuto alcun problema ma ora ecco che si ammala di nuovo i sintomi sono sempre gli stessi e il suo medico pensa che il problema siano i suoi reni quindi le consiglia di stare a riposo e di fare una dieta bilanciata. Marie vuole iniziare una nuova vita in Florida ma non riesce proprio ad ambientarsi infatti lei e Carol ben presto tornano a Deniston tra il gennaio e il febbraio del 1979 Marie stipula diverse polizze assicurative sulla vita su se stessa per un valore di 25 mila dollari su sua figlia Carol per un valore di 14 mila dollari e su Michael suo figlio per un valore di 25 mila dollari dato che Marie aveva venduto la sua casa lei e Carol si trasferiscono con la madre di Frank Carrie che ormai data l'età ha bisogno di essere assistita da qualcuno poco dopo l'arrivo di Marie scoppia un incendio nella lavanderia e nessuno dei rilevatori di fumo si attiva infatti Marie aveva tolto le batterie sostenendo che quei rilevatori avevano emesso un segnale acustico così tanto fastidioso da convincerla a toglierle anche in questo caso i danni causati dall'incendio sono minimi come era successo prima a Frank e poi a Terry Carrie la madre di Frank inizia ben presto a soffrire di dolore allo stomaco nausea e vomito mentre Carrie è ancora malata anche Carol inizia a presentare sintomi simili oltre alla tonsillite e alla febbre i medici non riescono assolutamente a capire quale sia il problema di Carol intanto Marie ripete a Michael che strani uomini continuano a chiamarla per molestarla al contrario Michael sta iniziando a ricevere un altro tipo di telefonate tutte riferite ai tanti debiti che negli anni Marie ha accumulato Michael ahimè scopre che mentre sua madre era suo ospite aveva rubato una delle loro carte di credito fino a svuotarla quasi del tutto l'uomo quindi si reca in Alabama per risolvere questa situazione quando un pomeriggio inizia anche lui a soffrire di crampi allo stomaco e vertigini proprio come sua sorella Carol e sua nonna Carrie per diversi mesi Carol continua a soffrire di attacchi di nausea vomito dolore alle gambe crampi tonsilliti e ormai poverina inizia anche a delirare a questo punto viene ricoverata in ospedale e tutte le volte che sta in ospedale si riprende ma quando viene dimessa riesce a stare bene giusto un paio di giorni poi deve tornare in ospedale per gli stessi sintomi ricorrenti i medici sono perplessi non capiscono di cosa soffra Carol e anche quest'ultimo ormai crede che non sarà mai più in salute ormai è così tanto tempo che sta male a questo punto Marie inizia a dire ai medici dell'ospedale che sua figlia Carol soffre di depressione e di rapidi sbalzi d'umore Carol è sempre stata minuta ma ora è emaciata non sente più i piedi e le gambe quindi non riesce più a camminare e a dirla tutta inizia a non sentire più neanche le mani mi fermo un attimo per dirvi solo una cosa che sento proprio povera Stella mi dispiace tantissimo io so cosa voglia dire avere dei dolori e non riuscire a capire a che cosa siano dovuti ovviamente io non ho mai avuto dolori come quelli di Carol ma sarei terrorizzata se senza una spiegazione logica non riuscissi più a camminare o non riuscissi più a utilizzare le mani a quanto capito Carol non riusciva con le mani ad afferrare gli oggetti non riusciva ad allacciarsi le scarpe non riusciva neanche ad aprire una merendina poverina davvero non voglio immaginare il terrore non lo voglio immaginare Marie nel frattempo per anni aveva continuato a prendere in prestito denaro da tutta Aniston per il buon nome di suo marito per poi non saldare i propri debiti quando Frank suo marito era morto Marie aveva ereditato e venduto la proprietà di sua madre a seguito della sua morte aveva venduto la casa di famiglia ad Aniston per trasferirsi in Florida eppure in un modo o nell'altro quei soldi sono spariti alla fine la polizia scopre che Marie era solita fare assegni falsi quindi viene giustamente arrestata nello stesso periodo uno dei medici di Carol legge i sintomi dell'avvelenamento da arsenico e controlla qualcosa che nessun medico aveva mai controllato prima le unghie di Carol delle mani e dei piedi tutte le unghie presentano delle striature bianche e quelle striature sono rivelatrici perché sono presenti in soggetti che sono stati avvelenati con dell'arsenico Marie ovviamente nega con tutte le forze e lei non ha avvelenato sua figlia ammette di aver somministrato a Carol una dose di farmaci antinausea ricevuti da un medico ammette anche di aver fatto a Frank suo marito e a sua madre Lucille delle iniezioni di morfina sempre su ordine del medico intanto Carrie la madre di Frank sta morendo a causa del cancro ma la sorella di Frank Frida così come la polizia iniziano a chiedersi se Marie avesse fatto qualcosa per accelerare la sua morte a questo punto i corpi di Frank e di Lucille vengono riesumati il capo tossicologo di Montgomery si reca alla Jacksonville State University appena nord di Aniston per annunciare che in effetti sono state rilevate quantità significative di arsenico nel corpo di Frank ma si rifiuta di affermare con assoluta certezza che il veleno ha causato la sua morte tracce di arsenico vengono rilevate anche nei tessuti di Lucille Marie nel frattempo è in prigione con la cauzione fissata a 10.000 dollari per l'accusa di tentato omicidio e 2.000 dollari per ogni accusa relativa agli assegni falsi Marie in prigione parla con una compagna di Cella e le dice che se fosse riuscito ad uscire su cauzione sarebbe scappata l'informazione viene trasmessa al procuratore distrettuale insieme ad una richiesta di revoca della cauzione ma Marie viene comunque rilasciata dopo che cinque residenti locali uno dei quali il suo ex datore di lavoro pagano la cauzione domenica 18 novembre 1979 Carrie viene a mancare i medici del Singfellow Hospital l'ospedale in cui è morta affermano che i test preliminari effettuati prima della sua morte hanno mostrato tracce di arsenico così viene disposta l'autopsia intanto le forze dell'ordine hanno problemi ben più grandi in quanto gli avvocati di Marie la ospitano a Broadway Inn una catena di hotel economici a Birmingham in Alabama sotto falso nome sperando di allontanarla dalla crescente attenzione dei media ebbene la stessa domenica in cui Carrie muore Marie fugge la polizia trova nella camera d'hotel una nota che lascia intendere se è avvenuto un rapimento ma immaginano che sia stata la stessa Marie a scriverla prima di andarsene diverse settimane dopo arrivano i risultati dei test fatti sui membri della famiglia di Marie Carrie ha davvero dell'arsenico nel corpo ma le quantità sono davvero piccole e gli investigatori non hanno modo di sapere se il veleno sia stato ingerito iniettato o ancora assorbito dalla pelle l'autopsia stabilisce che la sua morte è stata causata da un cancro Lucille la madre di Marie è morta per cause naturali mentre per Frank il marito di Marie la solfa cambia la sua morte è assolutamente stata causata da un avvelenamento da arsenico che gli era stato somministrato in piccole dosi per un periodo di tempo fino all'ultima dose ben più massiccia quindi l'11 gennaio del 1980 Marie viene incriminata per omicidio di primo grado dal gran giurì della contia di Calhoun le autorità successivamente trovano l'auto che Marie aveva rubato per fuggire oltre i confini di stato a Marietta in Georgia quindi viene coinvolta l'FBI nonostante il grande impegno dei detective Marie viene classificata come una fuggitiva la donna in effetti sparisce davvero e al suo posto appare Robbie Hannon John Oman racconta diverse versioni su come ha incontrato la sua futura moglie Robbie alle autorità racconta che i due si sono incontrati nel febbraio del 1980 a Fort Lauderdale in Florida a suo fratello dice che si sono incontrati ad un cocktail party a Palm Beach ad un collega del New Hampshire dice che quando si sono incontrati Robbie faceva la passeggiatrice non sappiamo quale di queste versioni sia vera ciò che sappiamo è che dopo il primo incontro la loro relazione progredisce ad una velocità vertiginosa John vive a Fort Lauderdale dove ha la propria attività di barche a noleggio chiamata Crow Marine è un uomo tranquillo un po' introverso non ha molti amici ed è a disagio con il conflitto e la rabbia Robbie Hannon così come Marie ha un talento straordinario riesce a dire alle persone ciò che vogliono sentirsi dire così John si innamora di lei davvero rapidamente e in poco tempo la coppia va a vivere assieme il fratello minore di John ha usato la sua eredità per acquistare dei terreni nel New Hampshire convince così Robbie e John a trasferirsi nel New Hampshire nell'agosto del 1980 infatti la coppia si trasferisce a Marlow dove il fratello di John ha acquistato una proprietà la cittadina sembra adatta loro soprattutto per la vicinanza a Keen una città popolata da meno di 25.000 abitanti con un college statale concessionario di automobili e fast food a circa 20 minuti da Marlow sicuramente Keen offre molte più opportunità lavorative infatti John trova lavoro come macchinista presso la Findings Inc un'azienda che produce piccole parti di metalli preziosi da utilizzare per creare gioielli i suoi supervisori e colleghi descrivono John come un lavoratore affidabile attento e sempre puntuale Robby con la sua esperienza in stenografia e dattilografia trova rapidamente un impiego presso la Central Screw Corporation un'azienda che produce viti e altri elementi di fissaggio Robby condivide tutta la storia della sua vita con parecchi colleghi racconta che aveva vissuto i primi anni della sua vita con i suoi genitori prima che lei e sua sorella minore si trasferissero a Tyler in Texas per vivere con i suoi ricchi nonni aveva sposato un uomo di nome Joseph Hannon subito dopo il liceo ed erano molto felici purtroppo però un giorno Joseph e i loro figli avevano perso la vita a causa di un incidente d'auto questo spiega Robby è il motivo per cui non aveva la patente e non guidava la macchina John da marito modello qual era la scarrozzava a destra e a sinistra la portava e la andava a prendere al lavoro le regalava i romanzi rosa che Robby amava tanto ed era solito farle il bagno e massaggiarle la schiena a fine giornata i due vivevano modestamente ma avevano detto agli amici che attendevano un'eredità dal marito di Robby nove mesi dopo essere stata assunta Robby dice ai suoi capi della Central Screw che deve andare in Texas per finire di sistemare alcune cose per la proprietà del suo defunto marito Robby lascia il New Hampshire ad agosto e a settembre lavora come dattilografa in una società di Houston chiamata Gulf Coast Investors racconta i suoi nuovi colleghi in Texas di come il suo primo marito Joseph e i suoi figli erano morti in un incidente d'auto aggiunge che ora è felicemente sposata con John Homam che è nel New Hampshire inoltre dice loro che è in Texas per sistemare le proprietà della sua ricca sorella e di suo cognato che erano morti circa un anno prima e avevano nominato lei come loro principale beneficiaria secondo ciò che racconta Robby lei e John stavano pensando di lasciare il New Hampshire una volta ottenuta l'eredità avrebbe finanziato un'attività di costruzione di barche per John mentre lei avrebbe aperto un negozio di abbigliamento la verità però a me qui è un'altra John non è certo che Robby torni nel New Hampshire i due infatti iniziano a non andare più d'accordo e a dirla tutta il viaggio in Texas di Robby è una sorta di separazione di prova Robby resta in Texas fino ad ottobre poi torna da John nel New Hampshire e viene assunta nuovamente alla Central Screw la donna continua a raccontare di essere stata cresciuta da nonni facoltosi e di aver vissuto nel lusso con il suo primo marito e i loro figli ma a questo punto aggiunge qualcosa di nuovo Robby dice a tutti che soffre di una malattia del sangue non esiste ancora una cura per questa malattia quindi sta morendo arriviamo nel 1982 quando Robby aggiunge un nuovo membro alla sua famiglia così racconta di avere una gemella di nome Terry Martin secondo ciò che racconta Robby Terry aveva vissuto in tutti gli Stati Uniti ed era sposata con un militare nel settembre del 1982 la salute di Robby peggiora quindi è costretta di nuovo a partire per il Texas per andare da dei medici specialisti Robby lascia il New Hampshire e parte per Dallas ma non rimane assolutamente a Dallas infatti dopo tre giorni arriva a Pompano Beach in Florida è il 23 settembre del 1982 quello stesso giorno una bionda di nome Terry Martin fa domanda per lavorare presso un'agenzia di collocamento locale per i successivi due mesi Terry lavora come segretaria poi dice al suo capo che sua sorella gemella Robby è morta quindi deve tornare nel New Hampshire per occuparsi di alcune cose mercoledì 10 novembre 1982 Terry chiama John per dirgli che Robby sua sorella è morta il giorno successivo giovedì 11 novembre si imbarca su un volo per Boston dove John va a prenderla secondo Terry Robby desiderava che lei e John essendo i suoi unici parenti in vita si consolassero a vicenda Robby infatti aveva lasciato una lettera a Terry esprimendo il desiderio che Terry e John si prendessero cura l'uno dell'altro venerdì 12 novembre Terry e John si recano all'ufficio del King Sentinel un giornale del New Hampshire con le informazioni per il necrologio di Robby gli appunti scritti a mano e forniti da Terry menzionano una terza sorella di nome Anne Trevor che vive a White Plains New York questa affermazione però risulta contraddittoria visto che Robby aveva ricevuto da Terry una lettera in cui sosteneva che lei e John erano i suoi unici parenti in vita in ogni caso il necrologio sarebbe stato pubblicato nell'edizione di sabato oltre ai suoi capelli biondissimi Terry Martin è diversa da Robby per alcuni aspetti è più snella e indossa abiti più attillati è una fumatrice accanita ed è decisamente più socievole ed estroversa di Robby inoltre Robby è stata un'eccellente casalinga Terry invece preferisce di gran lunga guardare la televisione e leggere libri come Robby Terry parla bene e possiede eccellenti capacità di segretariato quindi viene rapidamente collocata come segretaria esecutiva temporanea presso la Book Press a Brattleboro nel Vermont a circa 30 minuti da Keen nel giro di due settimane la sua posizione lavorativa viene resa permanente John tratta Terry nello stesso modo in cui aveva trattato Robby vanno sempre insieme a fare colazione in un ristorante di Marlowe poi fanno una sosta per prendere dei libri che lei ama tanto leggere John confida ai suoi amici di aver lasciato a disposizione a Terry la camera da letto principale mentre lui dorme sul divano ma nel giro di qualche settimana i due cominciano a condividere anche la camera da letto i vecchi colleghi di Robby della Central Screw però si rendono ben presto conto che c'è qualcosa che non va insomma Robby e Terry sono convinti sia la stessa persona e non si spiegano come John sia cascato in questo tranello usando il necrologio che era stato pubblicato sul giornale i colleghi scoprono che il cimitero in cui avrebbe dovuto essere sepolto il corpo di Robby non esisteva i colleghi così chiamano un giornalista di Tyler in Texas e grazie a lui scoprono che non c'è stata alcuna registrazione di una donna di nome Robby morta il 10 novembre del 1982 o in qualsiasi altro giorno inoltre non riescono neanche a trovare alcuna traccia del marito e dei figli che Robby aveva detto essere morti in un incidente d'auto anni prima la stessa ricerca viene estesa fino all'area di Dallas con lo stesso medesimo risultato pareva proprio che questa Robby non fosse mai esistita a questo punto tantissime persone mettono in dubbio la presunta morte di Robby e la presenza di Terry il detective senior Bob Hardy fa diverse telefonate in Texas ai dipartimenti di polizia e chiede informazioni su questa Robby ma non trova nulla anche la ricerca di Ann Trevor di White Plains New York ossia la presunta terza sorella è inconcludente il detective pensa di avere a che fare con una frode fiscale quindi contatta l'ufficio dell'IRS del New Hampshire in realtà a rovinare tutto il piano diabolico di Marie perché avrete capito che è sempre stata lei a crearsi nuova identità sparire ritornare avvelenare sparire di nuovo è una donna di nome Terry Lynn Clifton la donna è una latitante ricercata con l'accusa di fare il corriere di sostanzine e ha una lunga lista di pseudonimi la polizia di stato del Vermont che viene aggiunta al gruppo delle forze dell'ordine che controllano Robby che poi è Terry Martin sono convinti che Terry possa essere in realtà Terry Lynn Clifton Terry Martin alla fine viene denunciata dal suo capo il 12 gennaio del 1983 perché le dice sinceramente che non pensa lei sia chi dice di essere quindi viene portata al dipartimento di polizia di Brattleboro ebbene Terry confessa immediatamente la polizia crede di aver trovato Terry Lynn Clifton e si sbaglia di grosso ma tutto sommato riceverà una sorpresa ben più grande appena finiscono di leggerle i suoi diritti la donna ammette di non essere Terry Martin o Robby Hannon il suo nome è Audrey Marie Hilley è ricercata in Alabama per aver compilato degli assegni falsi i detective quindi fanno un controllino e restano sbalorditi quando scoprono che Marie non solo ha due accuse per assegni falsi ma è anche ricercata con l'accusa di omicidio e tentato omicidio Marie viene stradata in Alabama per essere processata sulla sua testa pendono due accuse omicidio e tentato omicidio John a questo punto viene a sapere dell'inganno messo in piedi da sua moglie alla stazione di polizia di Brattleboro nel Vermont e cade letteralmente dal pero era convinto che sia Robby che Terry fossero reali e che Terry fosse la sorella gemella di Robby John nonostante tutto decide di stare vicino a Marie e parte per andare in Alabama mentre è in custodia presso la prigione della contea di Caloon e in attesa di processo Marie dice ad una compagna di cella di nome Priscilla Lane di aver ucciso il suo primo marito avvelenandolo aveva messo un po' di arsenico alla volta nel suo cibo chiaramente Priscilla testimonia per l'accusa contro Marie raccontando la loro conversazione Marie durante il processo non prende mai posizione Carol che ora ha 23 anni ha ripreso l'uso delle braccia e delle gambe dopo un'intensa terapia di riabilitazione fisica sebbene continui ad avere delle difficoltà ad abbottonarsi la camicia o ancora i pantaloni la storia di Carol per quanto mi riguarda spezza davvero il cuore è tremendo davvero è tremendo è tremendo perché a dirla tutta Carol ha anche accettato il fatto che sua madre abbia provato ad ucciderla tuttavia continua a desiderare il suo affetto e la sua accettazione questo in ogni caso fortunatamente non le impedisce di testimoniare contro Marie sua madre il motivo delle azioni di Marie secondo i pubblici ministeri era principalmente finanziario Marie voleva anzi aveva bisogno di denaro perché quel denaro poteva ottenere i beni materiali e sicurezza nella vita il modo più semplice per ottenere quei soldi era attraverso i pagamenti delle assicurazioni sulla vita sebbene non siano state presentate accuse i pubblici ministeri credevano che Marie avesse avvelenato anche suo figlio Michael e sua moglie Terry la giuria alla fine la ritiene colpevole dell'omicidio di Frank e colpevole del tentato omicidio di Carol viene quindi condannata a 20 anni per il tentato omicidio e all'ergastolo per l'omicidio di suo marito Frank il 9 giugno del 1983 viene mandata alla prigione femminile statale di Julia S. Tutwiller a Wetampka una città a circa 100 miglia a sud di Aniston nell'autunno del 1983 le guardie vengono informate del fatto che Marie sta pianificando una fuga il direttore quindi va a parlarle Marie si inventa una scusa dice che lei non ha alcuna intenzione di scappare sono i detenuti che dicono bugie su di lei nella primavera del 1986 Marie viene classificata come una prigioniera di media sicurezza solo un anno dopo viene classificata come una prigioniera di sicurezza minima il che significa che può lasciare la prigione la prima uscita di Marie dalla prigione è breve con altri otto detenuti viene accompagnata dal direttore del carcere in un ristorante a Montgomery Marie assicura al direttore che è interessata a riabilitare la sua immagine quindi non avrebbe mai fatto nulla per distruggere la fiducia che l'uomo aveva riposto in lei ben presto le viene concesso un lascia passare di otto ore senza accompagnamento nel gennaio del 1987 Marie ha quattro congedi di otto ore alle spalle e quindi è qualificata per il passaggio successivo un permesso di tre giorni Marie lascia la prigione di Tutwiller giovedì 19 febbraio 1987 John la va a prendere e la donna non ha alcuna intenzione di tornare in carcere John guida fino a Deniston quella notte Marie chiama lo sceriffo locale come richiesto per informarlo sulla sua posizione per i due giorni successivi John e Marie mantengono un profilo basso rimanendo nella stanza d'albergo che John ha prenotato e uscendo per passeggiare solo dopo il tramonto Marie sarebbe dovuta tornare a Tutwiller domenica 22 febbraio alle 16 quella domenica mattina dice a John che vuole visitare da sola le tombe dei suoi genitori i due quindi si recano alla Waffle House alle 10 lasciando l'hotel insieme alle 9 poco dopo John viene visto seduto da solo alla Waffle House prima di mezzogiorno lo sceriffo locale riceve una telefonata da un agitato John Homan che gli chiede di raggiungerlo nella sua stanza d'albergo lo sceriffo quindi arriva presso la stanza d'albergo di John per leggere un biglietto scritto a mano da Marie su quel biglietto Marie aveva scritto chiaramente che se ne sarebbe andata aveva chiesto a John di perdonarla e infine di distruggere il biglietto gli agenti vengono inviati ai terminal degli autobus alle compagnie di taxi e all'aeroporto ma non trovano alcuna traccia di Marie il procuratore distrettuale è a dir poco indignato del fatto che Marie avesse ricevuto la possibilità di uscire dalla prigione per tre giorni senza supervisore insomma era chiaramente una detenuta a rischio di fuga giovedì 26 febbraio 1987 è una giornata fredda a Deniston aveva iniziato a piovere sabato 21 e non aveva mai smesso fino al martedì successivo poi la pioggia aveva ripreso a scendere quel giovedì accompagnata da raffiche di vento Sue Craft un abitante di Deniston sta rientrando a casa quando nota qualcosa sul patio di una casa vicina qualcuno sta strisciando sul terrazzo del patio la cosa all'arma Sue che quindi chiama un'altra vicina Janice Hines Janice inorridisce quel qualcosa che ha visto Sue è una donna con addosso abiti sporchi e inzuppati dalla pioggia Janice e Sue le vanno incontro per offrirle assistenza la donna dice con un filo di voce che la sua macchina si è fermata a poche miglia di distanza quindi ha camminato e strisciato fino ad arrivare a quel patio le due vicine le chiedono il nome ma la donna preferisce non dirlo quindi le due decidono di chiamare la polizia e un'ambulanza poi con molta cautela Janice e Sue lasciano la donna sul patio ma la coprono con un telo di plastica in attesa dell'arrivo delle autorità il primo agente di polizia giunto sul posto crede che la persona sotto il telo di plastica sia semplicemente ubriaca appena giunge l'ambulanza la donna sotto al telo di plastica perde i sensi durante il viaggio in ospedale ha un infarto nonostante lo sforzo del personale medico Marie perché di lei si tratta viene dichiarata morta alle 17.06 a 53 anni l'agente di polizia arrivato sul posto aveva notato che i vestiti della donna corrispondevano a quelli di Marie quando aveva lasciato la prigione quindi aveva avvisato i suoi superiori una volta giunti in ospedale arriva la conferma quella donna ormai senza vita è proprio Marie i medici scoprono che è morta di ipotermia il medico legale conclude che Marie era stata in un bosco per circa 36 ore prima di comparire su quel patio a questo punto c'è una domanda che sorge spontanea dove era stata Marie da domenica 22 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio questo resta un mistero John Homan alla fine aveva lasciato suo fratello e i suoi amici nel New Hampshire per seguire Marie o Robbie in Alabama John tra l'altro aveva creduto prima dell'esistenza di Robbie e poi dell'esistenza di Terry dopo il processo di Marie l'uomo trova lavori in un hotel a Deniston e mantiene un profilo molto basso evita di parlare di lei e della loro relazione e ci mancherebbe altro oserei dire comunque nell'ottobre del 1989 mentre tenta di sedare una rissa nel motel in cui lavora viene colpito da due colpi di arma da fuoco e muore sul colpo Michael e Carol continuano a condurre la loro vita tenendosi ben lontani dai media la storia di questa donna onestamente mi ha stupita e non poco credo sia davvero un enigma ma voi conoscevate questo caso che cosa ne pensate fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti sappiate che vi leggo tutti magari non riesco a rispondervi a tutti ma vi leggo tutti quanti spero che questo video possa essere stato per voi interessante io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice basta che non facciate nulla di criminale mi raccomando ciao a tutti mi raccomando Grazie a tutti.